Ciao a tutti ragazzi, oggi come vedete non sono da solo, sono qua con Sara. Ciao! E oggi parliamo dei Lowe Alpine modello Airzone Trek, nel particolare il modello maschile da 35-45. Nel modello femminile 33-40. Ma iniziamo subito con la recensione. Come al solito iniziamo parlando del peso di questi zaini. Modello maschile siamo sul chilo e 6. Modello femminile più o meno un chilo e 100. Detto ciò, iniziamo girando gli zaini e come al solito partiamo dagli schienali. Per quanto riguarda gli schienali, entrambi gli zaini sono uguali. Troviamo nel particolare la tecnologia Airzone Plus di Lowe Alpine, che consiste in una retina traforata che va a contatto con la nostra schiena e che fa evaporare tutto il nostro sudore. Questa particolare tecnologia fa sì che si crei un cuscinetto d'aria tra la nostra schiena e lo zaino veramente molto generoso e che quindi transiti davvero tanta aria e la trasferibilità sia veramente buona. Abbiamo provato in giornate toste, molto molto calde e non ci ha dato nessun tipo di problema. Naturalmente un po' si suda, non è che fa miracoli. Però, in confronto a tanti altri zaini, è una tecnologia che ci è piaciuta. Scendendo, continuando a parlare dello schienale, troviamo una zona lombare un pochino più dal punto di vista ergonomica, perché c'è una zona in schiuma particolarmente morbida per appunto appoggiarsi alla nostra fascia lombare senza crearci particolari fastidi e anche qua sia la spugna che la parte rete sono veramente molto traspiranti. Per continuare, analizzando più nello specifico la fascia lombare, possiamo dire che questa ha un ottimo scarico del peso, è molto avvolgente, la clip rimane stabile, quindi non si apre mentre siamo in movimento e inoltre molto confortevole. Sulla fascia lombare sono presenti poi i laccetti che normalmente in alcuni zaini rimangono, diciamo, a penzolare, mentre qui abbiamo la possibilità di metterli all'interno così che non intralcino il nostro cammino. Sempre sulla fascia troviamo delle tasche che nella versione femminile non sono di dimensioni molto generose. Personalmente ho infatti fatto fatica a inserire il mio telefono che non ha delle grandi dimensioni, diciamo, nella media. Invece nella versione maschile, essendo lo zaino decisamente più grosso, le tasche sono anche loro più grosse e qua uno smartphone ci entra senza tanti problemi, anche uno smartphone particolarmente grande. Tornando anche a parlare dello scarico del peso, io personalmente ho portato su 6 kg con questo zaino e non ho avuto grosse difficoltà. Non ho avuto dolore alle spalle, lo scarico andava più che bene, però, ecco, non andrei oltre i 7 kg con questo zaino. Beh, io naturalmente avendo un zaino più grosso, con più litraggio, a carico, completo, di 10, ho portato 9 kg e anch'io non ho avuto nessun tipo di problema. Diciamo che nel modello maschile non supererei i 10 di kg, ecco. Per quanto riguarda gli spallacci, anche loro sono fatti dello stesso materiale con il quale è fatto lo schienale, la retina dello schienale. Non hanno una sezione molto grossa, però sono molto confortevoli. Naturalmente, se aggiustiamo bene la fascia lombare a scarico del peso, questi lavorano molto bene, sia dal punto di vista del peso sulle spalle e della traspirabilità. Inoltre, nella parte superiore, come al solito, troviamo le classiche clip da tirare per avvicinarci lo zaino alla schiena. Sempre sugli spallacci troviamo la chiusura pettorale, questa con il solito fischietto da utilizzare in caso di emergenza, e questa si muove in su e in giù all'interno di forellini già prefissati. Una cosa che non mi piace, e che qua ogni tanto la vediamo in qualche zaino, è che manca la parte elastica su questa clip. Cosa serve la parte elastica? La parte elastica serve quando noi andiamo a gonfiare il petto per respirare, naturalmente gli spallacci vanno a gonfiarsi, e se non abbiamo la parte elastica, il nostro petto non andrà a potersi gonfiare al massimo la sua espansione, ma ci sentiremo un po' costretti. È una piccola sottigliezza che si può banalmente risolvere tenendo la clip un pochino più aperta, però comunque è una cosa da constatare che non c'è. Per quanto riguarda la regolazione dello schienale, invece, questa si può effettuare dall'interno. Si trova uno strap che possiamo staccare e poi possiamo andare a muovere in basso, in alto, in base alle nostre esigenze, lo schienale stesso per poterlo appunto regolare, personalizzare sulla nostra persona. Questa regolazione ha funzionato bene, anche a pieno carico, non si è mai mossa, non ci è mai capitato che lo zaino magari facesse su e giù. Funziona bene anche a pieno carico. Sì, la promuoviamo. Andiamo ora a girare gli zaini, così parliamo un attimo della parte posteriore. Iniziamo parlando dal lato di destra. Diciamo che sono degli zaini molto minimal sulla parte posteriore. Infatti troviamo semplicemente una tasca dove andare a riporre la borraccia. Questa non si riesce a prendere da soli, ma avremo bisogno di qualcuno che ci aiuta. e due classiche fettucce per andare a tirare lo zaino per diminuirne le dimensioni. Per quanto riguarda la clip superiore, ha all'interno anche un passante dove noi possiamo andare a inserire la parte superiore del bastoncino e poi andando a tirare lo zaino, tirando la clip, questo rimane serrato. Mentre il puntale si va a inserire qua sotto in questa particolare fettuccia elastica che esce. È un sistema che mi ha particolarmente piaciuto perché essendo la clip elastica ed essendo integrato la parte superiore all'interno della fettuccia siamo sicuri che con questo sistema non andremo a perdere i bastoncini. Mi è capitato che ballassero dei bastoncini con altri zaini. Con questo sono veramente sicuro che non andrò mai a perderli e inoltre ci starebbe dentro anche una piccozza senza tanti problemi. Volendo possiamo anche decidere di portare da una parte una piccozza, dall'altra i bastoncini perché questo sistema è presente sia a destra che a sinistra. Per quanto riguarda la parte centrale dello zaino troviamo innanzitutto la seconda apertura principale di questo zaino perché staccando le clip qua in basso possiamo andare ad accedere alla cerniera che una volta aperta ci consentirà di aprire lo zaino diciamo dal fondo e quindi avere la possibilità di avere a disposizione in qualsiasi momento il materiale che abbiamo dentro lo zaino che magari abbiamo messo in fondo senza appunto dover aprire lo zaino dall'alto e doverlo completamente svuotare. Aggiungo una piccola cosa la tasca è praticamente unica la si può separare sotto tramite un piccolo pezzetto di materiale che si aggancia con due piccole fettucce ma non sono due tasche completamente separate è giusto proprio una separazione come dire, tanto per metterla ecco. Esatto e poi sempre continuando a parlare della parte centrale troviamo questa tasca elastica a rete molto comoda che si può chiudere con una clip qui in alto ed è ottima nel momento in cui vogliamo andare a riporre un secondo strato una giacca impermeabile o qualsiasi altro materiale che non ci serve più e per averlo allo stesso tempo a disposizione allo stesso tempo possiamo mettere delle cartine insomma tutti gli oggetti che desideriamo metterci. e questa tasca è molto grossa davvero molto grossa esatto, la capienza è comunque veramente ottima infine per quanto riguarda poi l'ultimo lato è particolarmente simile a quello che vi ho descritto prima quindi non sto a descrivervi un'altra volta sono speculari quindi abbiamo qua la parte per la borraccia le due fettucce e basta per quanto riguarda la chiusura superiore quindi diciamo l'accesso principale dello zaino troviamo due cordini da poter tirare uno va a chiudere lo zaino e l'altro invece va a diminuire le dimensioni a me è sempre piaciuto trovarne due perché mi dà modo di poter chiudere veramente bene lo zaino e nel caso non sia completamente pieno poter andare a diminuirne appunto le dimensioni e cosa non da poco troviamo anche una clip da chiudere una clip passante nella parte superiore questa l'ho particolarmente apprezzata perché con questa clip possiamo anche andare a portare una corda volendo che dire la parte superiore è davvero semplice da utilizzare abbiamo il sistema per aprirla utilizzando due mani che apre lo zaino davvero molto velocemente anche la parte superiore ci ha convinto davvero anche se dovessimo andare a prendere magari qualche oggetto di corsa con la possibilità di chiuderlo tirando la fettuccia la possibilità di aprirlo con due mani si va davvero sul tranquillo sempre rimanendo sulla parte superiore vi parlo ora del cappuccio il cappuccio ha due tasche una esterna quella classica diciamo con una zip e l'altra si trova esattamente nella parte opposta cioè è all'interno entrambe sono molto capienti soprattutto quella esterna e nella parte interna si trova anche il laccetto per riporre le chiavi ma c'è un aspetto di questo zaino che ci è piaciuto particolarmente ovvero la sua versatilità questo zaino come dicevamo un 35-45 litri già 35-45 ci dà modo di poterlo utilizzare sia magari in trekking anche di più giorni nei rifugi magari anche con tenda se dobbiamo portarci dietro poco materiale comunque 45 litri sono tanti ma soprattutto viste le fettucce che ha anche lateralmente questo zaino può essere utilizzato anche per escursori giornaliere noi l'abbiamo fatto senza tanti problemi perché andandoli a tirare si va a diminuire abbastanza diciamo la grandezza dello zaino fino a renderlo quasi un 28-30 litri e quindi praticamente possiamo utilizzare questo zaino non dico 365 giorni l'anno ma ci andiamo vicino perché comunque trekking giornalieri li supporta senza tanti problemi e anche con dentro poco materiale andando a tirare come dicevo le fettucce il carico non balla non siamo sbilanciati quindi non ha nessun tipo di problema e invece poi se dobbiamo magari fare un trekking più lungo apriamo tutte le fettucce utilizziamo la parte di materiale superiore che ci sta dove c'è la chiusura per renderlo fino a 45 litri e andiamo a farci i nostri trekking di più giorni estivi ci ho tenuto a parlare di questo particolare aspetto perché io lo trovo sicuramente molto interessante perché ci dà modo di poter comprare un singolo zaino e poter risparmiare soldi invece che comprarne magari tre da diverso litraggio vi avevo chiesto su Instagram e voi cosa ne pensavate anche voi eravate abbastanza d'accordo con la mia idea però mi piacerebbe sapere anche da voi che state guardando il video cosa ne pensate preferite uno zaino magari singolo con la possibilità di cambiarci il litraggio in base alla necessità o preferite magari avere uno zaino da 25 uno zaino da 35 uno zaino da 45 litri quindi alitraggio singolo ti piacerebbe saperlo anche poi per decidere magari in futuro quali altri zaini andare a provare passando alla qualità dei materiali anche questi si sono rivelati ottimi il marchio Lowell Pin lavora solitamente molto bene e questo zaino ci ha dato la conferma ci ha dato la possibilità di provare effettivamente la qualità abbiamo infatti strusciato su rocce, rami e gli zaini sono ancora come nuovi dopo molte escursioni quindi molto probabilmente se comprerete questo zaino sarete sicuri che durerà nel tempo il che secondo me è sempre un aspetto apprezzabile ah giusto ci stavamo anche dimenticando la stabilità di questi zaini esatto la stabilità è stata uno dei punti forti di questo zaino perché si è regolato correttamente chiaramente e se è caricato correttamente e se è caricato correttamente è veramente ottima noi abbiamo appunto provato lo zaino fino a un massimo di 6 kg ma l'abbiamo provato anche un po' più vuoto e in entrambi i casi lo zaino si è rivelato stabile e non ci ha dato alcun fastidio infine per quanto riguarda il comparto acqua come vi dicevo oggi ci sono le tasche laterali dove poter mettere la borraccia c'è la possibilità di mettere la vescica all'interno con la possibilità di far uscire la proboscide e nella parte inferiore troviamo il rain cover che è già integrato è un pochino più grosso rispetto allo zaino quindi anche se abbiamo magari qualcosa nella taschina esterna ci sta e soprattutto il rain cover ha anche un elastico sulla parte esterna che possiamo andare a tirare così da essere sicuri che questo non svolazzi e non ci faccia effetto vela diciamo che la cura maniacale nei dettagli che ha lo wall pin lo si vede anche dentro il rain cover perciò attiriamo alle conclusioni a noi questi zaini sono piaciuti davvero tanto li abbiamo utilizzati per tantissime escursioni e sentiamo di consigliarveli senza tanti problemi hanno un prezzo che è abbastanza alto nel senso sono zaini che costano 190 euro se non ricordo male ufficialmente sul sito di low wall pin cercando online li potete trovare anche tra i 140 e i 150 io vi consiglio di stare su questo prezzo se li trovate a 140-150 un pochino di più secondo me già 160 è un pochino troppo 190 è spropositato ecco 140-150 il prezzo di mercato che si trova online va più che bene perciò ragazzi nella speranza sia stati esaurienti ed esaustivi noi vi ringraziamo per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo con le prossime recensioni che usciranno ciao ciao